Infortunio a Montale, due operai a bordo di due carrelli elevatori si sono scontrate, stavano lavorando in un magazzino, una rimasta gravemente ferita. Chiude il ponte, agevolazioni al vaglio, le sta studiando il comune di Rottofreno per venire incontro ai commercianti che subiranno disagi per i lavori sul ponte del Trebbia, chiuso la prossima estate. Vittime di violenza, 204 chiamate da gennaio, oggi la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Borgo Trebbia le querci di Mamre pensano alle ragazze in difficoltà. Vicenza Calcio senza ostacoli, anche in Coppa Italia i Biancorossi ottengono l'ennesima vittoria 3-0 all'Olginatese e turno superato, a prensione per un infortunio a Luca Franchi.